Giovedì prossimo una serata del Rotary Club Arezzo-Est dedicata alle manifestazioni cavalleresche. Siamo in compagnia del Presidente e del Segretario che ci illustrano questa serata un po' particolare, questa conviviale, ritorneremo nei torniamenti delle varie manifestazioni. Il Presidente Prosperi. L'iniziativa è nata sulla diffusione che il Rotary vuole avere sul territorio e quindi di potersi offrire come elemento di illustrazione e di conviviale per riunire le giostre che non sono soltanto quelle del Saracino di Arezzo, ma sono le giostre che nel contato e diciamo un po' allargato afferiscono sempre alla nostra città. Quindi una rievocazione di quattro giostre storiche, molto storiche, più o meno storiche diciamo, perché qualcuna è recente, che ci vede accomunati con l'idea di un volontariato e di una passione che per quanto riguarda la zona, l'attività equestre e dei costumi storici farà senz'altro una serata di piena adesione. Marco Mottini è il segretario, molto noto, conosciuto anche nell'ambiente della giostra del Saracino. Quali sono le manifestazioni protagoniste di questa conviviale? Avremo dei rappresentanti della giostra di Bagnaripoli, Olmo, Montisi, Sarteano. Saranno qui presenti dei rappresentanti che ci illustreranno i vari metodi giostreschi e le varie storicità di ogni rappresentazione. Avremo delle curiosità che poi verranno anche illustrate dal nostro collaboratore Roberto Parnetti. Il Rotary durante l'anno fa tutta una serie di iniziative, anche nel sociale sono innumerevoli. Ci dice come è la situazione, come si pone il Rotary Arezzo-Est? Il Rotary Arezzo-Est si pone in unione e in collaborazione con l'altro club Rotary di Arezzo che ha uno scopo unico per cui il fatto che siamo due non vuol dire che il Rotary sono due, il Rotary è uno. E quindi la sua azione viene esplicata sull'iniziativa di uno dell'altro. Per esempio questa qui sarà la nostra ma è stata l'iniziativa del concerto in Pieve del 3 gennaio di cui stamattina proprio abbiamo consegnato alla Croce Rossa Italiana con il presidente Carlo Greco di Arezzo una carrozzina elettrificata motorizzata montascale che alla Croce Rossa Italiana fa molto comodo per poter portare i pazienti fino ai piani alti dei condomini con il sollievo di loro personale. Quindi è un'azione che noi facciamo di comune accordo e che viene rivolta sempre al territorio per diffondere il senso del volontariato, il senso del servire gli altri senza nessun interesse da parte nostra. In più vorrei dire che ci sono ancora portate avanti delle iniziative con i versi giovani sia con borse di studio sia con le partecipazioni per esempio abbiamo anche quest'anno riconfermato la partecipazione del Vela Insieme dove tre ragazzi non normalmente dotati saranno ospitati la settimana in barca per poter avere un momento di svago e di comunanza con gli altri ragazzi. Bene, con Marco Montini chiudiamo ma questa passione per i cavalli cosa è? Cosa si prova a stare a contatto con un cavallo non solo per fare la giostra ma a starci a contatto 365 giorni all'anno? Sono cose che è difficile descrivere. La passione viene fin da piccola quando sei lì alle stalle del quartiere a guardare i cavalieri e i cavalli come si preparano, come vengono addestrati, il lavoro che viene fatto per poi correre giostra. Dalla giostra del Saracino poi ti appassioni a vedere, guardare e confrontare un po' tutte le giostre che puoi conoscere, che puoi vedere. Ogni giostra ha la sua storia e ogni storia ti appassiona. Questo è quanto.